Musica E siamo pronti per continuare l'avventura entrando in quel portale che ci ha portate allo spawn Vabbè è meglio che usassi, tempo di shoppare Shoppare un po' It's shopping time, tu che cazzo vuoi? Di livello 0 Allora io... Ah, ah! Ah, bravo Matte, spreca Iore Bravo Ma non l'ho sprecato Sì Praticamente Iore, tu ti sei avvicinato qua e gliel'hai messo qua e sei potenziata a livello 1 Iore si vanno per potenziare i mercanti Ah, lo sapevo Ma l'abbiamo appena scoperto Cioè non l'hai fatto apposta, lo so che ti stiamo dicendo per sbaglio Ma abbiamo scoperto come funziona Esatto Ok, ma io mi prendo un po' di vita, non posso ancora potenziarmi le lame Eh, io mi sono potenziato la palla di fumo Però compro intanto questo, quello lì E quasi quasi mi compro anche lo speed penalty A me lo compriamo la combo Di velocizza, un pochino Dove l'hai comprato la speed? Qua, risky business Eh, non ho i soldi per tutela, come fai? Abbiamo i stessi soldi, ma direi di tornare nel portale Qua sotto dove si va? Adesso vediamo dove finiamo E l'avventura continua Level 2 Sotto il tempio Qua c'è le spine Sì, l'ho vista Oh, c'ho Merda, odio questi cazzi di vermi Oh no, un'altra cosa di spine, merda Due sono, madonna santa Buono Oh, shate Ripeto, oh, shate Oh, merda Attento Oh, merda Siamo un attimo nella cacca Usa la pozza, usa la pozza S, 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 S Morivi di veleno, se no Eh, non mi ricordavo il passo Attento, non ricordo a te Abbiamo risurdo il cazzo di spawn Ahia, è la mia vita Ok, mi nascondo un secondino Ok, ce l'ho fatta qua Sono liberato dei nemici Buono Ok, tempo di avanzare Oh, shate Mele Una per me e una per te Merda, c'è il coso Oh, merda, c'è la pianta gigante là Dobbiamo farla fuori quella puttana Spendi la mela Oh, c'è che c'è la pianta là Ah, l'abbiamo risulta Buono Ma mi è impressioneva che il colpo Questa è veramente molto vero Sì Combo Ovviamente Sono dei potenziamenti che possiamo acquistare Ah, altra pianta Eh, altro boss aggiungerei anche Caneva Lascia che mi seguo a me Come vuoi Eh, mo, ma la gramat Lascia la fare Ah, no Oh, c'è Oh Vendor coin più 5 di vita forever and ever Ma che poi è Vendor coin? Vendor coin mi si chiama E sembra che ce ne erano due Era uno uno Sembrava, ma in realtà Ok Oh, c'è la tua vita Non si è messa molto bene Uh, c'è il segreto Cosa c'è di bello? Soldi? Yeah I like that I soldi ci servono Allora, qua dobbiamo trovare una pedana per riaprire il ponte Ergo dobbiamo tornare indietro Allegri a portarmi via Prendiamoli tutti sti soldi Punto Ci servono i big money Qua cosa c'è? Ok, qua Dove siamo arrivati? Che cazzo? Oh, no Le trappole Facili da evitare Ma rompono comunque il cazzo Sì, come io mi ho tanta Mi ho capito No, i vermi No, please Ok, distrutto anche questo Qui c'è un po' di vermi C'è un po' di spawner di vermi Allegri a portarmi via proprio lì Oh, porca troia Quante cazzo di piante ci sono? Come si è messo? Comunque uno spawner veramente messo in culo al mondo, eh Checkpoint Checkpoint di merda hanno messo proprio di vicino alle trappole Che uno per dedicarsi anzionare a corda Fa un passo e muore Mi chiappa, no, sono morto Finetti, non sei l'unico nella merda Te l'assicuro, bro Ho rotto uno spawner, bro Meglio così Come si va di qua? Beh, vedo dopo Allora, se voi che state guardando questo video Sarete pensando Ma perché non erano insieme? Siete molto più forti insieme Sì, è vero Solamente che non abbiamo voglia Di stare uno dietro all'altro Esatto Mi piace stare ognuno peccati su Intanto la mappa è grande Dobbiamo esplorarla tutta E Non ne vale la pena Cioè comunque i soldi sono condivisi Uccidere i mob non dà esperienza Poi le nostre classi sono abbastanza diverse Cioè comunque la mia classi sarà sempre più veloce Nel movimento in tutto quanto rispetto alla sua Però ho il difetto che a distanza non faccio un cazzo Mentre lui ammazza tutto a distanza in poco tempo E poi tanto alla fine ci troviamo sempre Perché alla fine La mappa Lo portano sempre lo stesso Esatto Ho trovato un altro portale Sì, però non abbiamo la pietra per attivarla E non vedo Coin a random Un'arancia Niam Eh beh, sembra che si prende da qui forse la mente Ah, non ho guardato la tua vita Che cazzo è questo coso? Qua va inserito mi sa uno di quegli specchi O come si... Cosa so Non morire, abbiamo finito le vite Ho uno di vita, non ci credo Forse è conviene che ti ricongiungi con me Probabile A parte che non facciamo uno vicino all'altro Sì no, io sono qua Ti ho raggiunto io Oh, per me quel pulsante lì So io cosa attiva Andiamo A parte il ponte Ma a parte il ponte Perché poi... Vabbè Beh, non è che ci manda avanti Ho già visto cosa c'è oltre quel ponte Sono degli oggetti Però se c'è vita, magari Non è una brutta cosa Ah no, tanto Un oro Questa cosa si chiama What flying pan Uh, ho passato il ponte Ho notato che abbiamo tratto uno dei getti a destra La padella Vero Ah no Ah, è uno short, è uno short cast Oh, c'ho Che se ti sfirono sei morto Ok Ok, proviamo a vedere cosa va Ma su qua, vediamo qua Cosa c'è scritto qui? Pump station Ma due ho un progetto da esplorare Lo so, non vorrei vedere cosa cazzo era Oh shit Bruta situazione bro Bruttissima Oh shit Qua ci sono due mele Però Morta Troia Ci sei morto Pensavo che se ne fosse stato utile L'ho rotto C'è un altro? Non lo so Ma penso che mi abbia ammazzato un fiore a me Ma io ho rotto qualche cosa Gem è Gem è Gems is truly, truly, truly outrageous Oh, io ho potenzialmente per il danno tipo 8000 Anch'io Dei danno, cazzo Non tolgo un cazzo Io capriai Ma vuole una vita per ammazzare Se c'è una nuova rispona intanto che mele tieni Se ce la fai tenere Qua ci sono due mele Comunque, ne prendo una intanto Bene, adesso me ne ho una aperta qua a mele Ok, ce l'ho fatta Ho rotto tutti i spawner Teoricamente Qua c'è una pianta rotta Qua c'è un'altra mele Se vuoi Altre due Ma devo prendere quella sotto allora Già che ci sono Oh, c'è che c'è la pianta eh Ecco con la mela Andiamo Ok, andiamo adesso Io intanto vedo un'altra meca C'è qua sotto che c'è un oggetto da recuperare C'è uno di qui così per attivare il portale Oh, possiamo attivare l'altro portale? Quello che ci porta mi sta sott'acqua Ci andiamo? Vai, attiviamolo Vieni, dobbiamo andarci insieme però Aspetta prima, questi qui non... Speriamo dopo qua Eh Lo prendo il vendor coin Oh, se ce l'hai vicino sì, se no vien attimo qua Non andiamo a prendere dopo Qua ci sono dei nemici Oh, yeah Oh, yeah Ok, arrivo Vediamo dove c'è qui sotto Oh, questo è finito Qua, guarda la mappa Voi direi che possiamo anche fermarci anche quest'altro episodio direi Fermiamo qui? Sì Quindi noi ci lasciamo davanti a un altro portale E ci vediamo nel prossimo video Ciao, ciao Bye Ciao 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 Grazie a tutti